buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Madri Niterrotta e oggi siamo su Rocket League incominciamo una bella nuova stagione, allora insieme alla scuola facciamo una stagione 1 vs 1 vs 1, quella stagione di prima è una stagione mia però ora la voglio fare insieme a voi e scendiamoci un poco l'emblema, io direi l'Egitto mi è piaciuto assai però questa mia racconta è bellissima ragazzi, no assolutamente Madri Niterrotta squadra benissimo dai, giochiamo questa partita ragazzi, ora siamo in stagioni e non si scherza sinceramente cioè sono emozionato, è l'utopia con lo zium e ragazzi come avete già detto il conde mi disse in un video di minecraft di abbassare l'audio credo che questo video pure si senta molto meglio rispetto agli altri video di Rocket League perché appunto in tutti questi video sto abbassando di tantissimo radicalmente audio ok, no ragazzi che ha parato eh, sto bastando infatti come se ho fatto, allora lo dico a tutti i miei iscritti quindi il conde mi rivolgo pure a te e volevo dirti che nei prossimi video di minecraft l'audio sarà ancora abbassato perché? perché l'audio, cioè in pratica io registro 3-4 episodi ogni giorno uno dietro l'altro nello stesso giorno sempre raga quindi i 3 episodi di minecraft si sentirà l'audio ancora abbassato invece nei prossimi episodi, cioè tra 3 episodi l'audio si sentirà meglio di qualunque altro episodio perché appunto ho letto quei commenti e ho risolto questo problema infatti credo che anche in questo video si senta pochissimo il volume di Rocket League ah, non proprio pochissimo ma nella sua giusta quantità di audio ecco, bellissimo lisciata ora invece concentriamoci nella partita volevo solamente avvisarvi perché non voglio che voi rimaniate senza informazioni e vorrei pure avvisarvi di un'altra cosa domani ci sarà il vlog a Roma quindi ragazzi non perdetevelo farò pure vedere la stanza che però non è dell'albergo ragazzi ma è di un altro alberghino, possiamo dire così ma la stanza è l'albergo vero, lo vedremo tra due giorni, 18 e domani è il mio compleanno quindi facciamo il doppio vlog del mio compleanno con 119 iscritti ora sono andato a vedere, tengo 119 iscritti vi ringrazio tantissimo è un sogno che diventa realtà veramente ragazzi bene prendiamoci questo benissimo turbo dai no, round, round siamo dei pirati contro 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 di lupi ecco, dei lupi benissimo benissimo, sto fermo e ora volo volare benissimo tripletta dai, questo è il gol da centrocampo nooo ma ragazzi, questo è il bastardo da centrocampo, eh benissimo oh wow ragazzi, guardate la che assist che mi ha fatto guardate, ora polè che idiota raga certo è che le prime partite sono veramente facilissime poi per il resto, secondo me pure quelle altre, eh uno, due e tre pam ecco là benissimo stiamo a 4 di turbo 100 bene vai, vice, vice tutto, vice tutto benissimo ole che colpo aereo ragazzi ole pam ah, ok e poi ragazzi, ovvio, io già incomincierei a dire il ritmo di video in inverno che bel voto che ho fatto in inverno non saranno più tre video al giorno però o ne saranno due o ne sarà uno, ok? però state sicuri che cioè, li pubblico i video ogni giorno, eh però visto che in inverno e sono sto al primo superiore informatico mi dedico di più allo studio e un video al giorno però ve lo carico ugualmente ragazzi quindi statevi tranquilli perché non vi abbandonerò ok benissimo ole oh no ragazzi che porca no oppla no, annaccia volevo fare la cosa figa in retromarcia invece benissimo ma meglio ma che no benissimo pla bella bella andiamo di così oh no ragazzi questa è sfortunata cioè è una partita più sfortunata della storia allora vai con le cuffie spompate al massimo dobbiamo spaccare i culi ragazzi no che cazzo sto facendo ragazzi che ho fatto non lo so due no un minuto zero nove o le allora benissimo bene ok gol ragazzi è splendido cioè splendidissimo gol gol della vita ok tac tac e se lo fa in modo epico benissimo vai così oppla no bene bene 40 secondi ragazzi oddio oppla 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 via via vuole a questo video poi lo voglio dire voglio riferirmi a voi questo video l'ho fatto oggi il 16 quindi per questo vi ho detto tutte queste informazioni e mancano 20 secondi 19 18 17 16 15 14 13 12 11 vai ragazzi 8 7 6 5 6 ragazzi mi ha sediato mio dio che rete a sui 6 secondi dalla partita mamma mia ragazzi siamo a 8 gol da centrocampo epic po pam no faccio no ragazzi ha segnato allo zero vabbè ragazzi vabbè automazze uh sbloccato per la paladin le stelle bene abbiamo vinto la prima partita raga allora ragazzi per questo episodio è tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio di Rocket League stagioni sempre qui